Allora c'è qualcuno qui che si sta preparando per andare a pattinare con le mie amiche Sì ma non solo Sofì Che cosa? Oggi farai la 24 ore challenge sui pattini Allora mi preparo velocemente Ecco che il papi ha aiutato a mettere i pattini a Sofì e sei pronta Salta subito in macchina dai andiamo 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 E' iniziata la 24 ore challenge da ora non te li potrai più togliere Iniziamo bene Esatto Inizio a cadere E' la prima volta che mi metto i pattini dentro in macchina cioè i pattini dentro la macchina Ciao Estreitas stiamo andando alla pista di pattinaggio però c'è un piccolo ma Sofì si è dimenticata e anch'io non ho controllato insomma non abbiamo portato le protezioni per le mani Quindi questo sarà un problema Sofì mi raccomando non puoi cadere altrimenti ti sboccerai tutte le manine Andiamo Andiamo E ho qui le scarpe Su su camminare ma perchè non pattini un po' invece di camminare Andiamo 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 Io vi spacco due Fatto E fino a che sono stati Sofì Allora qualcuno qua questa è già stanca? Siamo appena arrivate Non sono stanca che mi danno fastidio e le protezioni mi lasciano il segno Adesso Lu ha deciso Anche lei Di fare la 24 ore challenge Insieme a Sofì Non è una bella idea Sofì è già stufa Mi sa che qualcuno perderà La challenge No la perderò E beh ma se sei già stanca Di tenerli E poi qui quindi Ragazzi ragazzi ecco qui pronta Per la challenge Lu un applauso E poi abbiamo qui Ginny in tenuta da Beach Volley Ci manca solo la beach Cioè ci manca la spiaggia Però vabbè è uguale dai Siamo in pista E adesso proveremo lo slalom Iniziamo No questo non è lo slalom Vai 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 Olè Benissimo Lu Sofì rifai Fa un caldo tremendo Vai vediamo se questa volta Sofì ce la fa A fare lo slalom Uno dentro e uno fuori Uno dentro e uno fuori Dai dai che ce la fai Dai dai Benissimo Ottimo Lu Poi che cosa possiamo fare d'altro? Io so fare salti Dai vediamo Vediamo salto di Sofì Insieme insieme Pronti via Olè Perfetto Adesso voglio vedere l'ovetto Prego Sì l'ovetto è quello là Un ovetto è andato Manca il secondo ovetto Eccolo Allora adesso fate un percorso di salti Ovetto e slalom Prego Forza Forza Questi pattini li dobbiamo usare Ragazze Super Saltello E ovetto Abbiamo la prima caduta Vinta da Lu Insieme Olè Salto Ovetto Oh slalom Vai salto Veloce veloce ovetto Ecco la seconda caduta Come Lucrezia Adesso facciamo un nuovo percorso Che abbiamo appena inventato Io e Lucrezia Bene Allora pronti Ai posti Partenza Via Slalom Giro 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 Salto Salto Ovetto Ovetto Bravissime Vedo che ve la cavate abbastanza Ma adesso è una sfida più difficile No Dovete fare il limone Per rendere uno di quei blocchetti arancioni Uno a testa Scambiarvelo mentre pattinate Ok Però ci riusciremo Accettiamo la sfida Vero Sofì Sì Avete un minuto di tempo Raccogliere i paletti Fare il limone Ecco Tutti Uno Tutti Raccoglierle E poi scambiarveli Scambio Quando io dico scambio Ve le scambiate Scambio Scambio L'ultimo Manca l'ultimo Eccolo Eccolo qua Avete perso Siete due folle Lo possiamo rifare Sì rifate Rifacciamolo Estrellitas Vi dico solo Che qua di fianco a noi Ci sono dei professionisti Che stanno ridendo A crepa pelle Perché sono bravissimi Vi faccio vedere solo Un pezzettino Di quello che stanno facendo Professional Cioè noi adesso Fra cinque minuti Riusciremo a fare Questa cosa qua Esatto Poi ci abbiamo Ah però vedo che anche loro Se ne danno di santa ragione Vediamo un'altra performance Abbiamo anche le ragazze All'indietro No questa la faccio io Al mattino Quando mi sveglio Hai visto Quando mi sveglio Faccio anch'io queste cose Solo la mattina Alle sette però Allora che riduci Allora ragazzi Adesso dovete rifare Esattamente gli stessi passi Che fanno loro Che fanno Che fanno i ragazzi Della scuola professionale Allora pronti Via Copiare Copiare uguale Vai Che fanno cosa Uguale Passi da lì Ciao Dai Pronti Via Forza Forza ragazze Qui perdiamo Abbiamo la challenge Contro i ragazzi grandi Guarda Sono patinando Facciamo vedere chi siamo Su Su Dai Passi 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 Grazie per la visione! 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 tutti no no ma prima i saluti salutiamo valeria facci dalilade lucia francesco colasanti fatto di eie akram da cartanzano roffaida bouaichi claudi di reggio emilia e l'ultimo insieme alessandra di sei anni però l'ultimo 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 voglio prenderne l'ultimo ken e mohamed besitos vi aspettiamo al prossimo video ciao besitos iscriviti al canale